La polizia fluviale francese si allena lungo la Senna in vista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi che si terrà a fine mese a Parigi. Ogni mattina la brigata fluviale si dedica all'addestramento che si tratti di pilotaggio, immersione o nuoto. Circa 10.000 atleti sfileranno su oltre 90 imbarcazioni sulla Senna per 6 chilometri. Non ci aspettiamo particolari problemi, ha dichiarato Sophie Malherbe, capo dipartimento della polizia fluviale di Parigi. Allora, noi siamo particolari fiersi di poter assurare la sicurizzazione sul fleuve dei Gievi Olimpiadi 2024 di Parigi. Per questo, noi ci siamo iniziati. L'entrenamento non è non solo liato ai Gievi Olimpiadi, ma è un entrenamento di lunga lente, è il nostro quotidiano. Tutte le mattine della brigata fluviale sono dedicate all'entrenamento, sia in pilotaggio che in plongia, che in nage. Tutto questo per essere al meglio per questa cerimonia d'ouverture che si tiendrà sulla Senna e poi per le proprie che noi sicurizzeremo. I vertici della polizia a Parigi hanno annunciato piani per dispiegare circa 30.000 agenti ogni giorno. Con un picco di 45.000 per la cerimonia di apertura sulla Senna, la polizia sarà supportata dai militari con circa 18.000 membri dell'esercito.